Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove c'è un chilometro di coda per un incidente, tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico, in direzione Bologna. Infipilì rallentamenti per lavori tra Santa Croce sull'Arno e San Mignato, in direzione Firenze. Sulla statale 12 della Betone del Brennero, fino a venerdì 18, in orario 8.14, chiuso in entrambe le direzioni il tratto, in località Popiglio. Per i treni, fino al 30 giugno, durante l'interruzione della tratta via Reggio Lucca, i possessori di abbonamento regionale tra Masta e Pisa potranno utilizzare su questa tratta l'Intercity 501, senza sovrapprezzo. Per il traffico marittimo, codice giallo per mareggiate attorno alle isole dell'arcipelago toscano. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!